Alleluia Caro Gesù, più di ogni altra cosa Signore noi desideriamo adorarti T'adoriamo per chi tu sei T'adoriamo per quello che tu hai sopportato su quella croce per amore T'adoriamo perché tu sei il figlio del padre T'adoriamo perché tu sei il santo per eccellenza T'adoriamo perché tu sei il giusto T'adoriamo perché ti sei rivelato alle nostre vite E ci hai amato quando noi eravamo nemici tuoi e strani a quello che tu stavi compiendo sulla croce Oh caro Gesù Vogliamo dirti semplicemente questa sera che ti amiamo Ti amiamo per quello che tu hai fatto per noi Ti amiamo per chi tu sei Ti amiamo perché C'è tanta gratitudine nel nostro cuore Verso di te T'adoriamo perché tu sei il figlio del nostro cuore T'adoriamo perché tu sei il figlio del nostro cuore Per come tu ti sai prendere cura di noi Per la pazienza che hai con noi Per l'amore che ci riveli Per la guida che ci dai E anche in quei momenti Quando noi pensiamo di essere soli Tu ci guidi del continuo E tu prendi piacere nel guidarci Tu prendi piacere nel farci del bene Tu prendi piacere nello stare in compagnia nostra Tu prendi piacere nel modellare i nostri cuori Nel trasformare la nostra mente Grazie papà Grazie papà Grazie papino Grazie 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 Per come ci ami Per come sei tenero e dolce verso di noi Per come sei tenero e dolce verso di noi Per come sei capire il nostro cuore Per come sei acquietare i nostri cuori quando sono agitati Per come sei acquietare le nostre anime Quando siamo preoccupati Questa sera Vogliamo dirti grazie 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 papà Grazie papà Grazie papà Grazie papà Tu non sei un padre qualsiasi Tu sei il padre per eccellenza Tu non sei un uomo che puoi fallire Tu sei Dio Tu sei l'Eterno Colui che non muta Colui che non cambia Colui che non può essere scosso Tu sei colui che non ti lasci destabilizzare Da niente e da nessuna cosa Tu sei fermo Noi vogliamo imparare da te papà E desideriamo come Gesù Stava alla tua presenza e imparava da te Anche noi vogliamo imparare Signore Nel nostro cuore c'è un grande desiderio Stare alla tua presenza papà Stare alla tua presenza E imparare da te Osservare Come tu fai papà Vogliamo fare allo stesso modo anche noi Vogliamo ascoltare le tue dolci E melodiose parole che hai per noi Vogliamo Desideriamo essere intimi Tanto intimi con te Da sentire il fiato Della tua bocca Da sentire quel Dolce Fiato Che esce dalla tua bocca papà Ti chiediamo Spirito Santo Che tu ci dai sapienza Intelligenza Signore nel sapere gestire Il tempo Che ci viene donato Sappiamo che le situazioni di questa vita Il lavoro Gli affanni Gli impegni Signore Travolgono tante volte la nostra vita Veniamo travolti Dalle sollecitudini di questa vita Veniamo travolti dagli impegni Signore Ti chiediamo Spirito Santo Questa sera Insegnaci 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 a saper fare una buona E saggia gestione Del tempo Che ci viene donato dal Padre Vogliamo crescere di livello Vogliamo crescere nel tempo Dello stare alla presenza del Padre Vogliamo Desideriamo crescere Nel tempo dell'intimità Con il Padre Vogliamo avere una forza soprannaturale Come la forza che aveva Gesù Che dopo che tutto il giorno insegnava Ministrava Guariva Operava La sera Si ritirava in disparte Per avere intimità Intimità Anche a noi desideriamo Signore Crescere In questa intimità Con Te Signore Vogliamo stare Tanto così vicini Come due innamorati Che stanno Faccia A faccia Voglio avere Un'intimità profonda Con Te Papà Perché sappiamo Che là Sono le esorgenti Della vita E le esorgenti Della nostra Benedizione La Nello stare Faccia A faccia Vogliamo essere Signore Anche chiamati Amici Tuoi La Tua parola dice Che il Signore Tu hai chiamato Abramo L'amico Tuo E gli hai fatto Conoscere Quello che c'era Nel tuo cuore Gli amici Si raccontano Le cose Più intime I sogni I progetti I desideri Caro Padre Con tutto l'onore E tutto il rispetto Che abbiamo Per Te Vogliamo Diventare Anche amici Tuoi Senza Venendo Meno All'onore E al rispetto Perché vogliamo Conoscere Quello che c'è Nel tuo cuore Vogliamo Conoscere I tuoi progetti I tuoi disegni Ti chiediamo Papà Parlaci Parlaci Signora Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. T'adoriamo, t'adoriamo T'adoriamo, t'adoriamo T'adoriamo, t'adoriamo Dignola al Padre quanto lo ami Il Padre vuole sentire quanto tu lo ami Lui vuole farti sentire quanto Lui ama te Lui questa sera vuole dirti che sei importante per la sua vita Sei importante per Lui Sento queste due parole, non so per chi è Forse qualcuno che soffre di rigetto, di rifiuto Dio, il Padre ti dice questa sera Tu sei importante per me E Dio ti dice pure questa sera Io ho fiducia in te Non so perché questa parola, non so cosa stai vivendo in questo tempo Forse pensi che non sei importante per Dio Forse hai pensato che sei di seconda, di terza generazione Forse hai pensato che neanche Dio ha fiducia in te Perché forse hai pensato che sei di seconda, di terza generazione Perché forse hai sbagliato, hai fatto una promessa Non l'hai mantenuta ma il Padre questa sera ti dice figlio, figlia tu sei importante per me e io ho fiducia in te ricevi questa parola nel tuo cuore serbala nel tuo cuore perché tu sei importante per Dio e Dio ha fiducia in te anche se gli altri non hanno fiducia in te Dio, il Padre, ha fiducia in te perché Lui dentro di te ha messo il suo DNA e Lui ha fiducia in te Alleluia, Jesus Alleluia, Spirito Santo, grazie grazie per questi momenti preziosi e meravigliosi grazie, 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 grazie grazie papà a te diamo tutta la lode, la gloria, l'onore e il ringraziamento nel nome potente e glorioso di Cristo Gesù il Signore Alleluia puoi farlo più forte questo applauso non state applaudendo me ma Gesù il Re del Re il Signore dei Signori Alleluia wow wow c'è qualcuno per caso che non ha sentito la presenza di Dio chi non ha sentito la presenza di Dio alzi la mano tutti wow mamma mia wow che presenza meravigliosa di Dio che c'è questa sera wow ci sono stati discepoli che sono andati via e Gesù fece la domanda ai suoi dodici gli ha detto volete andare anche via voi e i dodici gli dissero Signore ma dove possiamo andare perché solo tu hai parole di vita noi non ne possiamo dire come figli ma quale migliore soddisfazione c'è nella vita se non sperimentare la presenza del Padre sapete questi momenti valgono miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di se si può dire di euro perché in un'atmosfera del genere una persona che è influenzata di demoni perché si vuole togliere la vita perché pensa di essere un fallito una fallita perché pensa di non essere immerso in un'atmosfera del genere una persona che sta male cambia cambia radicalmente perché quando la presenza di Dio scende accadono cose straordinarie a volte noi pensiamo le cose straordinarie sono che sai iniziamo a ballare al saltare iniziamo a fare chissà che cosa ma quando la presenza di Dio scende porta pace quiete porta bonaccia bonaccia sapete quando ci c'è la tempesta prima stavamo venendo qua stamattina c'era una tempesta 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 forte e poi arrivando dove c'è l'aeroporto per venire qua bonaccia e si iniziava a vedere in fondo il cielo aperto e così è quando la presenza di Dio scende porta bonaccia nella nostra anima nel nostro cuore tu dimentichi tutti i problemi le difficoltà dimentichi gli affanni le preoccupazioni il mangiare che devi andare a cucinare i debiti che devi pagare il vestito che ti manca se devi pulire la casa dimentichi tutto alla sua presenza e questi queste sono le migliori cose che puoi sperimentare la presenza di Dio amen tienilo fortemente tieni forte questo io potrei andare anche a casa sono soddisfatto ma voglio ascoltare la parola di Dio perché so che la parola di Dio questa sera lavorerà nel mio cuore trasformerà la mia vita influencerà potentemente la mia vita fratello Maurizio viene a pregare per l'offerta non ti preoccupare puoi venire anche senza offerta non ti preoccupare non ti ho detto di venire a pregare vestito sporco non ti possiamo fare pregare grazie a tutti ci alziamo per favore alleluia signore ringraziamo a te signore per questa sera per essere qui tutti insieme benedicici sempre signore benedici tutti quelli anche quelli che non ci sono signore grazie veramente di tutto benediciamo stasera la tua offerta l'offerta che portiamo a te signore affinché signore tutto quello che noi portiamo signore venga glorificato ancora di più signore e che il tuo regno signore cresca ancora molto di più signore nel nome tuo Amen grazie un salvatore vive dentro di me ma conoscerò conoscerò più di te perché sei la cosa migliore che ho e il mondo non può non può più separarmi da te non può più separarmi da te ma conoscerò più di te ma conoscerò più di te perché sei la cosa migliore che ho e il mondo non può non può più separarmi da te un salvatore vive dentro di me ma conoscerò conoscerò più di te perché sei la cosa migliore che ho e il mondo non può non può più separarmi da te un salvatore vive dentro di me ma conoscerò conoscerò più di te perché sei la cosa migliore che ho Alleluia ci sono persone nuove questa sera che per la prima volta si trovano qua in mezzo a noi se per favore ci sono delle persone nuove Dio ci rinnova ogni giorno ci sono persone nuove che questa sera si trovano qua per la prima volta non ci sono persone nuove la prossima volta portate persone nuove perché ok ok qualche avviso brevemente per la gioia di tutti quanti noi lunedì 5 ottobre riparteranno le classi di studio ma questa volta non si faranno di persona ovvero stiamo aprendo un canale su youtube un canale privato per poter fare gli studi tutto questo ovviamente per cercare di facilitare come dire il tempo perché volevamo togliere il servizio del mercoledì ma appena ho detto togliamo il servizio mercoledì mi hanno assaltato quindi ho detto va bene sono sottomesso ovviamente capite che ci sono tanti impegni durante la settimana non vogliamo sovraccarricare nessuno non vogliamo come dire per coloro che non hanno i familiari nel signore portare scandalo portare disordine nei matrimoni nelle famiglie quindi abbiamo optato per fare gli studi su youtube su un canale privato quindi lunedì ci sarà la prima lezione alle ore 20 e 30 ma siccome siamo buoni li terremo gli studi fino al prossimo lunedì caricati quindi se non è le persone chi non ha la possibilità di poter eseguire lunedì alle 20 e 30 li può seguire l'indomani dopo due giorni dopo tre giorni la domenica pomeriggio fino al lunedì prossimo quando ci sarà il prossimo studio ma sarà penalizzato perché non potrà fare delle domande mentre chi segue online quindi mentre l'insegnante sta spiegando sta facendo lo studio ha la possibilità di poter fare delle domande attraverso i commenti e quindi ci si può come si può dire interfacciare ma ovviamente se li guardate poi indifferita non c'è la possibilità di poter scrivere perché nessuno vi risponderà quindi lunedì 5 ottobre riprenderanno gli studi stiamo per iniziare un corso di preparazione al matrimonio perché abbiamo una coppia che si deve sposare quindi prima di sposare stiamo iniziando un corso di preparazione al matrimonio perché desideriamo che le persone i fratelli arrivino al matrimonio con le idee chiare e quindi come affrontare un matrimonio questo corso lo consiglio anche a tutti coloro ovviamente aperto a coloro che sono prossimi al matrimonio non ai fidanzatini quello faremo un altro tipo di corso per i fidanzatini ma questa è preparazione al matrimonio e quindi quelli che sono già fidanzati e che devono entro l'anno accedere al matrimonio e devono sposarsi possono partecipare anche fratelli di altre chiese e possono con l'autorizzazione ovviamente dei loro pastori possono partecipare anche persone non convertite ovvero non credenti ovviamente gli studi sono fatti su basi bibliche quindi se conoscete persone che vorrebbero magari persone che frequentano la chiesa cattolica e vogliono fare il corso per la preparazione al matrimonio ovviamente dite che comunque sono fatti su base bibliche non mentale o filosofie del genere dopodiché dal 4 dicembre vi sto dando la primizia sentitevi benedetti in questo dal 4 dicembre all'8 dicembre stiamo organizzando un ritiro spirituale dopodiché il 8 credo che sia gennaio la prima settimana ovvero subito dopo il 6 gennaio del 2021 inizieremo il terzo corso Banà terzo corso Banà è corso per matrimoni e quindi per coloro che già sono sposati possono partecipare a questo corso possono partecipare credenti e non credenti possono partecipare persone che convivono quindi coloro che già convivono insieme possono partecipare perché vogliamo insegnare l'importanza del matrimonio per quanti hanno fatto questo corso siamo stati benedetti ovviamente al prossimo corso c'è una promessa perché ci sarà anche la serata della riconferma la serata di gala per coloro che hanno fatto il secondo corso che a causa dell'emergenza non è stato più fatto quindi tutti coloro che avete fatto il corso quando verrà il pastorelia faremo anche la serata di gala la riconferma delle promesse dopodiché c'era qualcos'altro da dire non c'era qualcos'altro da dire bene devi dirmi qualcosa no ok mi guardavi come dire ok mi guardavi con gli occhi bene pregate per questi eventi perché vogliamo benedire le persone poi c'è la possibilità per quanti sanno parlare bene l'italiano la possibilità di lavorare due ore a settimana la retribuzione è una buonissima retribuzione che vi verrà data in cielo quanti vogliono dedicare due ore di tempo parlano bene l'italiano due ore di tempo al giorno senza offesa per nessuno ma due ore uno due tre persone quattro persone cinque persone sei persone bene e allora mi fate la cortesia lasciate poi il nominativo a Gloria prima di andare via perché mi servite due ore la settimana per lavorare in un call center chiamato Gospel Center già io ho fatto la foto a chi ha alzato la mano e non vi potete tirare indietro perché dobbiamo usare i telefoni piuttosto per cose stupide per evangelizzare e incoraggiare le persone e quindi due ore alla settimana si può dedicare stai seduto e almeno due ore li puoi dedicare per chiamare le persone per evangelizzarle per incoraggiare una parola di conforto di incoraggiamento di apprezzamento di sostegno o forse parli della qualsiasi cosa però comunque stai facendo stai dando un contributo alla società e stai seminando la parola di Dio è importante perché dobbiamo fare cose senza precedenti non vogliamo primere le persone ma vogliamo incoraggiare le persone ovviamente la parola di Dio dice quando Gesù mandò i 70 disse andate nelle città e se vi ricevono nelle case che la pace riposi nella casa se non vi ricevono scuotete la polvere e andate via voi non entrate nelle case ma se vi permettono di poter parlare bene se non vi permettono di poter parlare benedite ringraziate salutate e chiudete il telefono con tanta di educazione quindi poi prendi il nome io ti do la foto che già ho fatto tutta la foto di chi sono il telefono lo mette alla chiesa è importante che dobbiamo nel territorio evangelizzare il territorio allora partiamo da un presupposto se tu sapessi con certezza che domani sera finirebbe il mondo cosa faresti? cosa faresti? se avresti la certezza domani sera domani sera alle ore 21 il 24 settembre alle ore 21 finirà il mondo coloro che sarebbero stati salvati andrebbero con Gesù coloro che non sarebbero stati salvati andrebbero all'inferno cosa faresti? inizieresti inizieresti a chiamare i tuoi amici i tuoi vicini a dire guarda che sta finendo è come quando si diceva guarda che nel 2000 finisce il mondo tutti dicevano nel 2000 finisce il mondo e tutti parlavano nel 2000 finisce il mondo e tutti piuttosto che festeggiare il capodanno erano preoccupati finirà e quando finirà? è finito il 2000 2001 2002 siamo arrivati al 2020 ancora siamo qua e quindi questo ci dice che è importante che noi parliamo alle persone perché ci sono ragazzi ascoltatemi la gente sta andando fuori di testa la gente già è fuori di testa per tutto quello che si sente si legge nei giornali tutto quello che si ascolta nelle televisioni la gente è andata fuori di testa e talvolta anche i credenti si allineano con quelli di fuori allora la Chiesa ha una responsabilità e la Chiesa siamo noi noi siamo Chiesa la Chiesa non sono queste mura dove noi siamo riuniti la Chiesa siamo noi e la Chiesa deve fare la sua parte perché un giorno saremo chiamati a giudizio ci presenteremo davanti a Gesù il giusto giudice e ti dirà senti io in tre anni ho fatto questo 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 e non finirà mai perché la Bibbia dice che tutte le cose che Gesù fece non ci sono fogli che potrebbero contenere tutte le opere che Gesù fece e noi non avremmo scampo non avremmo scusa da dire a Gesù ma sai Gesù io non avevo tempo sai io non ce la facevo io mi vergognavo io non mi sentivo capace io ho attraversato momenti di difficoltà io dovevo lavorare io dovevo cucinare non ci saranno scusa da poter dire a Gesù Signore perdonaci perché noi non ci siamo arrivati perché tutti quanti noi una cosa molto importante dobbiamo imparare imparare a gestire il tempo tempo dobbiamo imparare a gestire il tempo la Bibbia dice in Ecclesiaste c'è un tempo per ogni cosa un tempo per mangiare un tempo per dormire un tempo per camminare un tempo per predicare un tempo per lavorare c'è un tempo per ogni cosa e di conseguenza noi dobbiamo essere buoni e saggi amministratori e la Bibbia dice che ogni amministratore deve essere trovato fedele amèn quindi il tempo è prezioso i giorni che Dio ci regala perché sono un dono che Dio ci fa devono essere amministrati saggiamente e anche giustamente amèn ok a proposito di questo il titolo della mia predicazione questa mattina ho dato una parte e poi ho aggiunto un'altra parte lampade accese e buona terra girati alla persona accanto a te gli dici lampade accese e buona terra lampade accese e buona terra Gesù Gesù un giorno insegnava alle masse la Bibbia dice e parlava in parabole tant'è che aprite la vostra Bibbia nel Vangelo di Matteo nel Vangelo di Marco nel Vangelo di Luca e trovate che Gesù parlava in parabole faceva raccontava per rendere comprensibile alle persone quello che lui stava dicendo tant'è che l'Evangelo non è complicato ma l'Evangelo è molto semplice non è articolato ma è molto semplice è la nostra mente articolata per diciamo sì però ma e qua mettiamo sempre i punti interrogativi i punti esclamativi i punti virgola punti mettiamo tutto quello che vogliamo ma Gesù la parola di Dio è molto chiara e non ha la Bibbia dice non è soggetta a particolare interpretazioni così la Bibbia dice in Marco capitolo 4 versetto 10 più tardi quando Gesù rimase con i dodici e gli altri discepoli gli dissero che significa questa storia Gesù aveva raccontato la storia di un contadino che esce per seminare Gesù parla dei quattro tipi di terreni il seme che cade lungo la strada il seme che cade nella roccia il seme che cade in mezzo alle spine e il seme che cade in buona terra e nessuno aveva compreso e i discepoli le interrogano e hanno detto Gesù ma cosa significa il contadino che esce cosa ci vuoi dire perché ci parli di questa parabola di un contadino che esce e mentre usciva gli cadeva del seme nella terra camminava un po' più avanti una parte è caduta nella zona rocciosa camminava un po' più avanti è caduta in mezzo alle spine camminava ancora più avanti è caduta in mezzo alla terra e Gesù rispose e disse ai discepoli a voi è permesso di conoscere il segreto del regno di Dio che resta invece è nascosto a coloro che sono fuori il regno i discepoli interrogarono Gesù e Gesù gli dice a voi è permesso di conoscere il segreto del regno di Dio a volte sapete cosa accade che nella chiesa non vogliamo conoscere i segreti del regno di Dio sapete perché sapete perché perché realmente non ci immergiamo nella profondità della parola di Dio e non permettiamo allo Spirito Santo di rivelarci la sua parola la parola predicata produce sempre il suo frutto ma è la persona che la riceve che fa la differenza ognuno di noi è paragonato a un tipo di terreno ogni persona è paragonata a un tipo di terreno che cade la parola e ci sono cuori che sono come le strade cuori che sono come le rocce cuori che sono come un terreno pieno di spine e cuori che sono un buon terreno quindi parliamo di quattro tipi di terreni quattro tipi di cuori e un po' un po' più avanti al versetto 15 Gesù spiega ai discepoli e gli dice che il seme caduto lungo la strada dice su cui cadono alcuni dei semi rappresenta il cuore duro di certe persone che ascoltano il messaggio di Dio ma ascolta cosa dice questa versione io mi piace leggerla dalla versione parole vita dice ma subito viene Satana e fa di tutto perché lo dimentichino cosa avviene quel seme che cade lungo la strada rappresenta quel cuore duro e quindi non scende in profondità ma resta in superficie e il diavolo fa di tutto per rubare quel seme che è stato seminato perché non ha messo radici poi dice ancora un po' più avanti il terreno roccioso dove cadono gli altri semi rappresenta il cuore di chi ascolta il messaggio con entusiasmo avete visto mai nella chiesa che persone che arrivano wow che bella parola mi ha toccato oggi la parola io tornerò la prossima domenica e tu la prossima domenica sei là lui dice wow sta tornando quella persona cinque persone wow è che non è entusiasta dice ma come mai non è venuto gli mando un messaggio non ti risponde gli mando un whatsapp legge il messaggio ma tu non ti accorgi che lui ha letto il messaggio perché ha disattivato le notifiche oggi c'è questo mi piace no? questo qua che si disattiva le notifiche così dice non sa se legge il messaggio oppure no andiamo oltre taci lingua rappresenta il cuore di chi ascolta il messaggio con entusiasmo ma superficialmente la bibbia dice le radici del messaggio non scendono in profondità e anche se da principio costora agiscono bene non appena cominciano le difficoltà o le persecuzioni causa la loro fede subito si danno per vinti cosa sta dicendo qua la parola? ci sono i primi due versi sono il seme che cade lungo la strada il seme che cade in un luogo raccioso rappresenta il cuore di coloro che ascoltano il messaggio con entusiasmo wow che bella predicazione che bello wow mai sono stati in una chiesa così mi è piaciuto tanto questo ma non ha messo radici è una fede emozionale la bibbia dice le radici del messaggio non scendono in profondità e anche se da principio costora agiscono bene all'inizio non appena cominciano le difficoltà o le persecuzioni riflettevo quello che Gesù ha detto i sermoni di cui parla nel capitolo 24 principi delle dolie di parto la tribolazione più avanti quello che accadrà quando Gesù tornerà sapete io credo che questo siamo all'inizio soltanto chi è che sta parlando siamo solo all'inizio e vediamo che c'è tanta instabilità e non siamo ancora all'inizio della persecuzione quando ti mancherà come dire il pane da mangiare quando dovrai comprare qualcosa e per comprare qualcosa dovrai avere per forza una carta di credito non puoi circolare con soldi contanti quando inizierai a parlare di Gesù nella tua azienda e ti licenzieranno e per paura tu non parli nella tua azienda di Gesù perché hai paura di perdere il posto o nella tua scuola tu non parli di Gesù perché altrimenti i tuoi compagni non ti guardano più non ti trattano più e sei un un bullone marginato o forse ti preparano una trappola che appena esci fuori dalla scuola tutti ti assaltano e per paura non parli e noi dobbiamo stare attenti a queste cose perché Gesù disse non chiunque dirà Signore Signore entrerà nel regno dei cieli ma bensì chi avrà fatto la volontà del Padre mio Gesù disse che nei cieli dice qua dice anche se da principio costore agiscono bene non appena cominciano le difficoltà e le persecuzioni causa la loro fede perché Gesù disse la parola di Dio scusate dice in prima Pietro che la nostra fede è molto più preziosa dell'oro che perisce perché la nostra fede che ci fa rimanere fermi e stabili ragazzi nei momenti di difficoltà nei momenti di persecuzione nei momenti di solitudine nei momenti di deserto nei momenti quando tu sei perseguitato nei momenti quando attraversi momenti di difficoltà nel corpo nella salute nel matrimonio nei tuoi figli nelle finanze nella tua casa quel che sia è la tua fede la mia fede che rende stabile noi possiamo vacillare ma il gomito la nostra fede sta sempre appoggiata sulla parola possiamo vacillare ma la nostra fede deve rimanere ferma possiamo attraversare momenti di difficoltà possiamo essere piegati ma non abbattuti dice la parola di Dio non spezzati allora è importante che quando noi ascoltiamo la parola e non soltanto la parola predicata ma quando ascoltiamo la parola che leggiamo la parola che parla al nostro spirito noi possiamo rimanere fermi e non possiamo essere entusiasti e dire wow ho letto un versetto oggi meraviglioso ho ascoltato una predicazione meravigliosa wow che è stato bello il messaggio oggi non mi ricordo chi è che ha detto uno di questi giorni wow che è stato bello il messaggio l'ho ripreso forse non mi ricordo chi era ho detto senti non devi dire che è bello il messaggio o la predicazione perché se è bello è qualcosa che ti piace ma la parola di Dio ti deve scomodare quando arriva la parola di Dio ci trasforma un giorno l'apostolo Filippo Weiss scrisse è la parola che trasforma se la parola predicata o la parola letta non trasforma la nostra vita non è il problema la parola ma se noi riceviamo la parola o se la parola di Dio cade in un terreno lungo la strada in un terreno ruccioso e poi ci parla un altro tipo di terreno un altro tipo di cuore il terreno pieno di spine rappresenta il cuore di chi ascolta la parola di Dio e la riceve ma ben presto le attrazioni di questo mondo avete visto persone che vengono in chiesa giovani in particolar modo e meno giovani vengono in chiesa fanno un'esperienza con Dio bello meraviglioso ballano saltano wow sono pronti a spaccare il mondo con un pugno ma arrivando a un certo punto magicamente perché non c'entra niente con lo spirito di Dio ma è qualcosa di diabolico le attrazioni di questo mondo la discoteca il canale è questo gli amici il bar il pub il ballo le feste il fidanzato la fidanzata le belle cose di questo mondo le attrazioni di questo mondo in alcuni addirittura il fascino della ricchezza wow quando la parola di Dio dice che Mosè dice rifiutò di essere chiamato figlio del faraone rifiutò di vivere le ricchezze del mondo presente e fece la scelta di essere perseguitato di essere malfamato di subire persecuzioni dal popolo stesso di Israele ma scelse lui per sua scelta di servire Dio guidando il popolo di Israele e io credo che quando la parola di Dio arriva alla nostra vita ci mette davanti a un bivio vuoi godere i piaceri di questa vita vuoi seguire il successo di questa vita vuoi fare soldi vuoi avere fame in questa vita vuoi avere posizioni in questa vita vuoi avere successo in questa vita vuoi avere popolarità o vuoi soffrire per le cose di Dio sapete in questo tempo mi ha martellato in particolar modo la vita di Paolo lui sapeva che era arrivata alla fine dei suoi giorni e incontra gli anziani della chiesa di Efaso e gli dice che era arrivata dice questa è l'ultima volta che io vi vedo poi non vi vedrò più Paolo era continuamente connesso sapeva cosa lo stava aspettando sapeva la sua prossima tappa sapeva che avrebbe subito persecuzioni e malgrado tutto questo lui continuava a fare la volontà di Dio ve lo devo leggere scusatemi ma atti capitolo 20 permettetemi di leggerlo perché è molto ma molto importante se siete stanchi me lo dite che continua e vado avanti dice questa volta Paolo atti 20 capitolo 16 aveva deciso di non fermarsi ad Efeso perché gli premeva di trovarsi a Gerusalemme e se era possibile in giorno della Pentecoste quando sbarcammo a Mileto Paolo mandò a chiamare gli anziani della chiesa di Efeso quando arrivarono Paolo disse loro voi ben sapete che dal principio in cui vi ho messo piede nella provincia dell'Asia fino ad ora ho lavorato per il Signore con umiltà ho sofferto e ho perfino pianto e ho dovuto affrontare gravi pericoli e congiure dai giudei che mi volevano mi volevano morto comunque non sono mai venuto meno nel dirvi tutto ciò che poteva essere utile sia in pubblico che in privato sia ai giudei che ai greci ho sempre raccomandato di pentirsi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo or lo Spirito Santo mi spinge a ripartire per Gelusalemme ascolta senza sapere che ne sarà di me salvo che lo Spirito Santo mi rivela di città in città egli stesso mi avverte che mi aspettano prigionie e molte tribolazioni sapeva Paolo le sofferenze che aveva passato sapeva qual era il suo destino sapeva che di città in città dove lui entrava l'aspettavano sofferenze e tribolazioni e poi aggiunge e dice ancora ma non mi importa la mia vita non vale niente somigliava a Gesù Paolo e poi aggiunge dice ma allora non vale niente se non me ne servo per completare il lavoro che mi ha assegnato il Signore Gesù è quello di parlare agli altri del Vangelo della grazia e dell'amore di Dio e allora so che nessuno di voi fra i quali sono passato a predicare il Regno di Dio mi vedrà mai più l'ultima volta l'ultima tappa sapeva Paolo che questa era l'ultima volta che visitava la Chiesa di Efeso e dice ancora aggiunge perciò oggi vi prendo per testimoni che se qualcuno di voi non accetta Cristo io non ne ho colpa perché non ho mai mancato di annunziarvi tutto ciò che Dio aveva da dirvi badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i credenti la Chiesa del Signore Gesù che Egli ha comprato col proprio sangue e di cui lo Spirito Santo vi ritiene vescovi e responsabili sai che tu ed io siamo responsabili di questo territorio Paolo si reca e chiama gli anziani della Chiesa e gli dice io non ho mai mancato di annunziarvi tutto il consiglio di Dio l'amore di Dio e poi sta per chiudere gli dice voi siete responsabili della Chiesa che Cristo ha comprato a prezzo di sangue allora noi tutti cari siamo responsabili quando ascoltiamo la parola di cosa ne facciamo perché un giorno Dio ci chiederà dal giorno in cui sei arrivato nella città di Udine di mettici la tua città dove sei arrivato fino a questo giorno cosa hai fatto a quanto persone hai predicato l'Evangelo a quanto persone per quanto persone hai pregato quanto tempo hai speso sulle ginocchia per pregare per la salvezza del territorio l'Apostolo Paolo dice io piego le mie ginocchia davanti a Dio e io credo che oggi lo Spirito Santo oggi Paolo direbbe scusate oggi Paolo direbbe chi nella Chiesa sta piegando le ginocchia davanti a Dio per supplicare la salvezza della nazione dell'Italia del territorio della tua città dei tuoi parenti dei tuoi colleghi dei tuoi compagni chi è che realmente sta piegando le ginocchia per la salvezza dell'umanità l'Apostolo Paolo sta dicendo agli anziani dice badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i credenti la Chiesa del Signore Gesù Cristo che egli ha comprato col prezioso sangue e di cui lo Spirito Santo vi ritiene vescovi e responsabili lo Spirito Santo si vuole muovere vuole parlare al cuore di ogni persona perché ogni persona si ascolti la voce dello Spirito Santo e la persona possa camminare per portare il messaggio si possa presentare davanti alle persone possa sapere ascoltare il messaggio e possa parlare alla persona non dire quello che gli passa per la testa ma sapere ascoltare lo Spirito Santo e parlare quello che lo Spirito Santo in questo momento gli sta dicendo nell'orecchio e gli sta rivelando il bisogno che c'è nel cuore delle persone ma se noi non abbiamo comunione con lo Spirito Santo e la parola ci piace la domenica perché oggi quello che è la maggior parte di quello che c'è nella nazione dell'Italia andiamo in una chiesa dove ci piace la parola la parola non ci deve piacere e ti dico una cosa che quando la parola di Dio viene predicata con franchezza non a tutti piace perché la parola la Bibbia dice che separa le cose dallo Spirito con le cose dell'anima e la nostra anima non è stata ancora redenta le nostre emozioni i nostri ragionamenti i nostri pensieri non sono stati redenti è lo Spirito che è stato redento ma non la nostra anima e quando la parola di Dio arriva separa le cose dell'anima con le cose dello Spirito perché non possiamo camminare per l'anima possiamo camminare per lo Spirito e quando camminiamo per lo Spirito adempiamo i desideri del Padre quando camminiamo per l'anima molto spesso adempiamo i nostri desideri umani e Paolo stava dicendo agli anziani lo Spirito Santo vi rende responsabili perché lo Spirito Santo ci rende responsabili perché lui non può fare niente se la sua chiesa non si muove se la dice ma le persone saranno visitate lo Spirito Santo ha bisogno della sua chiesa quando parliamo di chiesa non sono mura persone viventi la Bibbia definisce pietre viventi e quindi un po' più avanti ascolta cosa dice ancora un po' più avanti mamma mia questa non ce l'ha messa stasera so bene che dopo la mia partenza ascolta perché dobbiamo aprire gli occhi la chiesa perché dobbiamo avere gli occhi dello Spirito aperti Paolo sapeva già quello che sarebbe accaduto dice so bene che dopo la mia partenza si faranno strada fra voi dei maestri veri e propri lupi rapaci che non risparmieranno il gregge e perfino in mezzo a voi saranno quelli che distorceranno la verità per tirarsi appresso dei discepoli fammi voglio stare più comodo so bene dice l'apostolo Paolo che dopo la mia partenza si faranno strada fra voi maestri veri e propri lupi rapaci che non risparmieranno il gregge e perfino in mezzo a voi ci saranno quelli che distorceranno la verità per tirarsi appresso dei discepoli stati attenti sta parlando agli anziani ricordatevi che per tre anni notte e giorno non ho mai smesso di esortare con lacrime agli occhi ciascuno di voi cosa faceva Paolo esortava con le lacrime agli occhi diceva ragazzi state attenti aprite gli occhi abbiate comunione con lo spirito santo camminate con i doni dello spirito abbiate discernimento vegliate a questo scopo con ogni perseveranza perché i tempi sono difficili e se Paolo venisse oggi con tutto quello che sta accadendo Paolo scuoterebbe la chiesa altro che Maurizio e Maurizio dice duro questo mamma mia se verrebbe Paolo Paolo veramente scuoterebbe le chiese dal nord dell'Italia all'estremo sud dell'Italia dall'estremo ovest dell'Italia all'estremo est Paolo dice con lacrime esortato la chiesa e poi aggiunge ancora una cosa ricordatevi che per tre anni e tre notte non ho mai smesso di esortare con lacrime giorno e notte ciascuno di voi ed ora vi raccomando a Dio alla sua cura e alla propria e alla parola alla cura della parola della sua grazia vi raccomando a Lui che può formare la vostra fede e darvi l'eredità da dividere con tutti quelli che sono stati messi da parte per Lui mamma mia quindi cosa sta dicendo Paolo Paolo sta dicendo che c'è un residuo che Dio si è scelto e dobbiamo stare attenti io voglio fare parte di quel residuo il terzo cuore qual è il terreno pieno di spine abbiamo parlato dell'attrazione di questo mondo il fascino della ricchezza la ricerca del successo persone che ascoltano la parola e poi arrivando a un certo punto dico ma io perché come mai non ho successo o mi piace che nel libro di Michael Lesman dove dice che aveva una chiesa grande della mattina predicava in quella chiesa grande con migliaia e migliaia di persone e poi lo Spirito Santo l'ha mandato in una chiesa a predicare con poche persone e man mano passavano le domeniche le persone diminuivano e Lui mentre era in aereo diceva Signore ma io con tutta la popolarità che ho con la chiesa grande che io mi sto recando in una città sto facendo ore di volo sto lasciando la mia famiglia per predicare a poche persone e lo Spirito Santo gli ha detto ma tu servi le persone o servi me per quale lo fai per il numero e il successo perché mi ami e mi vuoi servire allora dobbiamo stare anche attenti a questo perché talvolta anche noi credenti possiamo cadere in questa trappola ragazzi per la smania del successo come mai non mi dai spazio come mai non mi dai spazio per presiedere per predicare come mai non mi fai insegnare come mai non mi fai fare questo oh bene cambio chiesa cambio pastore cambio responsabile cambio riunione perché nessuno mi dà spazio e questo accade a quelle persone sta parlando a quel tipo di cuore il seme che cade viene soffocato dalle sollecitudini di questa vita la sollecitudine di questa vita non è il successo soltanto fuori a volte anche dentro la chiesa fratelli c'è uno spirito di Absalom quanti conoscono lo spirito di Absalom uno due tre persone soltanto nella chiesa quattro conoscono lo spirito di Absalom siamo messi male ragazzi oggi c'è lo spirito di Absalom nella nazione dell'Italia scatenato l'Absalom era il figlio di Davide lui ha voluto fare minacce a suo padre scandalo portava il popolo fuori dalla giusta direzione e oggi c'è questa fama di andare avanti voglio fare il pastore voglio fare la chiesa e stamattina mi scrivevo con un ministro gli ho detto ma nessuno si degna di sentire la chiamata di andare nelle parti più sconfinate a fare una chiesa una missione ma è lo spirito che sta parlando è la coscienza contaminata che parla ma come mai nessuno sente di andare in carni a predicare come mai non c'è nessun pastore che vuole andare a tolmezzo a fondare una chiesa come mai non c'è nessuno che vuole andare nelle parti più sconfinate e perché Dio non ha me carnici o perché le persone cercano la popolarità o perché credenti cerchiamo la popolarità come stanno le cose ragazzi stiamo ascoltando lo spirito stiamo ascoltando la nostra anima chi stiamo ascoltando come mai e lo spirito santo non ama i carnici lo spirito santo non ama quelli che sono nella bassa lo spirito santo non ama persone che devono farsi 50 chilometri per venire in chiesa o sono ministri che non vogliono ascoltare la parola di Dio non vogliono ascoltare lo spirito santo e vanno creando seminando scandali divisioni e l'apostolo Paolo parlava appositamente di questo ragazzi stati attenti che negli ultimi tempi molti apostateranno dalla fede significa abbandoneranno la fede e daranno ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni i demoni vogliono dividere le chiese i demoni vogliono dividere i fratelli i demoni vogliono creare scandalo ma lo spirito santo vuole accordare lo spirito santo vuole portare unità vuole portare pace vuole portare salvezza questo è il seme che cade tante volte nel cuore di noi credenti e dobbiamo stare attenti dobbiamo vegliare e poi dice ancora un'altra cosa l'inganno della soddisfazione materiale per cosa stiamo predicando per cosa stiamo servendo il Signore per cosa lavoriamo su questa terra per fare soldi viviamo su questa terra per il lavoro o lavoriamo per vivere e servire il Signore dov'è la chiesa di Cristo che realmente sa fare delle sante decisione e mette ordine prima viene Dio poi vengo io poi viene il matrimonio poi viene la famiglia poi viene il servizio poi viene il lavoro dov'è la gente santa un popolo la Bibbia dice che è stato appartato per Dio che sa fare la differenza noi non siamo gente qualunque ragazzi noi siamo il popolo di Dio siamo i figli di Dio in questo tempo dobbiamo essere luce non possiamo essere tenebre non possiamo permetterci di conformarci al sistema di questo mondo noi siamo stati chiamati fuori santi significa chiamati fuori dal sistema di questo mondo appartati per poter servire il nostro Signore Gesù come faceva Paolo dicendo a me non mi interessa la mia vita non vale niente dice l'inganno delle soddisfazioni materiali prendono il sopravvento e tolgono dal cuore il messaggio di Dio quanto fratelli mamma mia fratelli che li vedevi zelanti parlavamo l'altro giorno con mia moglie eravamo scandalizzati dicevamo ma come è possibile che fratelli lascia lascia tranquillo come è possibile che fratelli che arrivavano in chiesa i primi la domenica alle 6 di mattina erano qua quando non c'era nessuno per dire alle 6 di mattina i primi gli ultimi ad andare gli ultimi ad uscire fuori dai locali com'è possibile che da un giorno all'altro si cambia ragazzi com'è possibile che un giorno all'altro si cambia il diavolo è venuto a rubare la parola dal cuore ha dimenticato quello che ha fatto per Gesù e noi come credenti dobbiamo stare attenti a questo ragazzi questo è quello che dice la parola il diavolo viene per rubare il diavolo prima toglie la parola del cuore per separare i matrimoni per distruggere la vita e perché una persona possa portare scandali in questo mondo piuttosto che dire wow io mi sono consacrato mi sono appartato sofferenze persecuzioni solato ma sto fermo con mia moglie stiamo insieme preghiamo ma siamo pure sotto un ponte andare a dormire ma siamo uniti siamo insieme portiamo avanti la parola della verità non ci interessa niente della nostra vita ma quel che importa è la testimonianza la nostra fede che quello che io ho ascoltato per tanti anni non sia rubato dal mio cuore la Bibbia dice che il terzo tipo di seme in questo terreno pieno di spine dice prendono il sopravvento e tolgono dal suo cuore il messaggio di Dio così che non dà frutto il diavolo non vuole che porti frutto il diavolo non vuole che i credenti portiamo frutto lui farà di tutto il possibile perché non possiamo portare frutto di tutto il possibile ma poi c'è grazie a Dio un quarto terreno buona terra c'è buona terra qua? dice poi Gesù disse ancora no scusate il quarto tipo di cuore ma la buona terra rappresenta il cuore di chi accetta veramente il messaggio di Dio questa è la parola dice ma questa è la parola dice quelli che accettano veramente il messaggio di Dio e lo fa fruttare molto ma la buona terra rappresenta il cuore di chi accetta veramente il messaggio di Dio mi ha sconvolto una volta mi trovavo a Palermo eravamo in ferie con mia moglie due giorni di ferie siamo andati a Palermo in chiesa perché noi abbiamo l'abitudine che quando andiamo a Palermo andiamo in chiesa raramente non andiamo in chiesa quando la chiesa è chiusa non ci andiamo ma se la domenica c'è il culto noi andiamo in chiesa noi per siamo in ferie non vado in chiesa a volte sento dire sono in ferie non vado in chiesa perché sono in ferie le migliori ferie che uno può fare li può fare in chiesa almeno queste sono le migliori ferie per me e ricordo l'Apostolo Lirio ci ha chiamato mi ha dato un saluto l'Apostolo Lirio ci ha chiamato avanti stavamo andando al posto dice fermi dice amministrato ho ricevuto una parola per voi dice senti dice Maurizio e Zina lo Spirito Santo vi ha messi là perché voi possiate predicare la parola di Dio con franchezza dovete predicare l'integrità non era proprio così ma l'integrità ve lo sto sintetizzando l'integrità del messaggio non guardate i numeri predicate il messaggio che Dio vi ha dato duro crudo diretto a volte uno dice mamma mia ma come fa a saperlo lui non ascolta i miei messaggi io i suoi sì ma lui i miei no però lo Spirito Santo parla e la Bibbia dice che dobbiamo dice quel cuore quella buona terra rappresenta il cuore di chi accetta veramente il messaggio di Dio quindi quando dice mi è piaciuto il messaggio non dire mi è piaciuto perché alla nostra carne non piace il messaggio alla nostra mente non piace il messaggio quando si parla i cieli aperti o che devi dare a Dio mamma mia devo dare a Dio questa chiesa si predica di soldi qualcuno dice l'Evangelo della prosperità no predichiamo quello della povertà allora dice questo questo non va bene poi dice il perdono no no perdonare neanche no 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 e quindi perdonare non bisogna perdonare perché siamo nell'ipergrazia Dio ama tutti e non abbiamo bisogno di perdonare poi dice intimità abba intimità Dio lo sa che io corro tutto il giorno e quindi sa che il tempo non ne ho e quindi togliamo pure questa parte togliamo tutte le parti ma la Bibbia dice quelli che ricevono il messaggio della parola di Dio e lo fanno fruttare molto e poi dice chi il 30 chi il 60 è perfino cento volte di quanto è stato seminato nel cuore significa che quando la parola di Dio viene rilasciata è un seme che viene sparso e deve produrre chi il 30 il 60 ma lo Spirito Santo desidera che possa portare il 100% di quello che è stato rilasciato non il 30 non il 60 ma il 100 ma che benvenga che almeno porti il 30 ma che benvenga che almeno porti 30 persone al Signore ma che benvenga che almeno ne porti 60 ma che è meglio ancora se ne porti 100 dice se è predicato sul perdono ma chi devo perdonare io Spirito Santo ma forse ho qualche pendente con qualcuno mettimelo davanti io sono subito a liberarmi a perdonare subito allora perdona tre persone ne perdona sei ne perdona dieci intimità prima spendevo cinque minuti con Dio quindici minuti prima ne spendevo tre minuti con Dio moltipico tre per sei diciotto minuti prima spendevo un'ora con Dio devo spendere dieci ore non mi interessa devo farlo fruttare non mi interessa l'intimità perché se Dio ha parlato e Dio ha parlato di intimità deve fruttare questa parola se Dio ha parlato di perdono deve fruttare questa parola se Dio parla di evangelizzare deve fruttare questa parola se Dio parla che devi parlare al telefono dice ma non l'ha fatto mai nessuno ma tu non ti interessa se l'ha fatto mai nessuno tu fallo io voglio fare cose che non ha fatto mai nessuno voglio avere l'esclusiva marchio esclusivo Gesù quando venne sulla terra venne a fare cose che non aveva fatto mai nessuno era un estremista era un estremista camminava controcorrente non camminava col sistema dei farisei non camminava col sistema degli iscrivi lui camminava col sistema del padre e faceva la volontà del padre era esclusivo lui faceva cose senza precedenti e noi dobbiamo fare cose che altri non hanno fatto mai dobbiamo aprire radio dobbiamo aprire televisioni dobbiamo fondare chiese dove chiese non ce ne sono noi non siamo una chiesa che spacchiamo le chiese noi siamo chiese credenti che facciamo chiese dove chiese ancora non c'è oggi c'è la moda magazzino più avanti apriamo oh perché tanto Gesù per poter moltiplicare ha diviso questo non è il sistema di Dio questo è il sistema del diavolo ma il sistema di Dio Gesù dopo un quando andava faceva cose nuove e tu e Dio dobbiamo fare cose nuove buona terra dillo buona terra un po' più avanti al versetto 21 dice poi Gesù disse ancora quando si accende una lampada pensate che si debba nascondere la sua luce coprendola con un panno certo che no ci sono i versetti ok perché non te li ho dati certo che no altrimenti la luce non si vedrebbe e non servirebbe ora pensi che Dio abbia si sia rivelato a noi solo per la salvezza nostra ma pensi che Gesù sia arrivato solo per salvare te e dice oh mi ha salvato me oh finalmente grazie a Dio guarda sono il favorito dell'Eterno e Dio dice guardate arrivi a casa e gli dice oh io sono il primo genito papà Dio mi ha scelto adesso tu ti devi inchinare davanti a me papà mamma fratello maggiore perché io sono il prescelto di Dio sono un genito figlio nella casa che sono stato scelto e tu ti devi inchinare tu hai ricevuto Gesù perché Dio ha acceso una lampada dentro di te e sai cosa fa la lampada? sai cosa fa la lampada? sai cosa fa la lampada? mi spegni le luci per favore tutti quanti le luci tutti quanti le luci me le spegni per favore tutto, tutto hai sudare tutto devi spegnere quelli spegnili tutto devi spegnere sai cosa fanno la lampada? Io non riesco a vedere le vostre facce, ma la lampada dà direzione, la lampada ti fa vedere la mia faccia, la lampada dà direzione e tu devi dare direzione in questo mondo. Noi siamo chiamati qua in questo mondo a fare ad essere un faro, ad essere un allarme, è come quando il faro è messo nel porto e la nave da lontano inizia a vedere quel faro che gira, tu sei un faro, tu ed io qua sul territorio del Friuli Venezia Giulia siamo un faro che stiamo dicendo alle persone, Ehi attenzione, c'è un allarme, sta per tornare Cristo Gesù e se tu non ricevi Cristo sei in pericolo di morte, io ti voglio predicare Cristo, io sono una lampada. Tu sei luce, la Bibbia dice accendete per favore, non si accende una lampada per coprirla, per mettere un telo sopra, perché non sarebbe di utilità a nessuno. Poi dice ancora, lo scopo di una lampada è di risplendere e di essere utile, lo scopo della tua lampada, tu ed io siamo una lampada e lo scopo è di essere utile a tante persone, a chi è nella depressione, a chi è nello scoraggiamento, a chi è senza finanze, a chi la vuole fare fuori, chi si vuole suicidare, chi crede che non c'è più speranza per la sua vita, per i malati, tu ed io siamo una luce. Ragazzi, noi non dobbiamo fare abitudine di venire in chiesa la domenica, il mercoledì e forse potremmo essere anche il giovedì, forse il venerdì, il sabato, sette giorni la settimana, ma tornare sempre in chiesa e dire, oh vado in chiesa, ho messo a posto la mia coscienza, mi sento a posto davanti a Dio, oh sono andato in chiesa, ho fatto la mia offerta, ho fatto il mio servizio, sono a posto davanti a Dio. Nono tu sei in grande pericolo, tu è Dio. Se questo è il nostro ragionamento che abbiamo detto io vado in chiesa e ho fatto il mio dovere, noi siamo in grande pericolo. Non si accende una lampada per poi coprirla, la Bibbia dice, comprendola con un panno, certo che no, altrimenti la luce non servirebbe a niente. Lo scopo di una lampada è di risplendere, di essere utile a tutti. Cosa fai? Cosa fai? Dove lavori? Negozio. Nel negozio deve essere una lampada, una luce. Dove lavori? Nella fabbrica deve essere una luce. Il prima ad entrare, l'ultima ad uscire. Il migliore lavoro, maggiore produzione. È una luce questa. Una luce non è predicare l'Evangelo. Una luce è nella fabbrica, le persone ti guardano, quello ha prodotto 30, il credente 40. Quello arriva puntuale, quello 5 minuti prima. Quello non mi sembra l'ora che scatta l'ora per scappare, quello invece 2 minuti in più e va lentamente, come dire, mi dispiace, sto andando via dell'azienda. E il datore di lavoro, come la finestra là, vedi che c'è la finestra, io non vedo dall'altro lato, ma lui è messo dietro la finestra e sta guardando. Domani è a quest'ora, voglio vedere se effettivamente si comporta così. E questo è il primo giorno, e questo è il secondo giorno, e questo è il terzo giorno. Poi viene il datore di lavoro e ti dice, scusi, ma perché le va via? Perché lei arriva prima e va via l'ultimo? Come mai quello produce 30 e lei produce 40? Come mai quello è triste? Tu sei sempre gioioso. Come mai quello parla male dell'azienda e tu invece parli bene dell'azienda? Essere luce non significa aprire la bocca, ma fare fatti. E qua nel momento opportuno l'Apostolo Paolo dice, se è il caso, predicate anche con le parole. Non è che sei stato salvato per conformarti al mondo, o metterti da parte, rifugiarti dentro una chiesa, dentro quattro locali, dentro quattro mura. Non è questo lo scopo perché Dio ha acceso la nostra vita. Non è questo lo scopo perché Dio ci ha salvato e ci ha portati in una bella chiesa. Lo scopo perché Dio ci ha salvato perché possiamo essere di luce a tante persone che ancora sono tenebrate, persone che gli è calato il velo, che non vedono più niente, depressione, fallimento, distruzione, separazione, suicidi, omicidi, femminicidi. Mettici tutto quello che vuoi. Tu ed io siamo stati chiamati per illuminare la vita degli altri. Non per venire dentro il locale. Mi sono messo a poso, finalmente ho il mio pulpito. Oh, ho raggiunto la mia posizione. Lo scopo di una lampadina è di risplendere, di essere utile. Così tutto ciò che ora è nascosto un giorno verrà alla luce. Se avete orecchie, ce le avete le orecchie, ascoltate. E il versetto 24 dice non solo. Dice ascoltate, ma non solo ascoltate, mettete in pratica ciò che udite. Più lo fate, più comprenderete e capirete ciò che vi sto dicendo. Significa, wow, ma guarda un po', il pastore mi ha detto che io devo produrre 10% in più di quello che ha produito. Wow, ho capito perché Dio mi ha detto di produrre il 10%. Perché il datore di lavoro mi stava guardando e mi stava prendendo come esempio. E stava dicendo all'egiziano, guarda che tu devi diventare come il figlio di Dio. Non devi essere più schiavo, ma devi somigliare a quello che ha fatto testimonianza. e comprenderai, comprenderai quello che la Bibbia dice. Non solo che ascolto, ma mettere in pratica ciò che ho ascoltato. E poi la Bibbia dice più lo fate, più comprenderete. Perché? Dice, ma a me che mi serve arrivare cinque minuti prima e andare cinque minuti dopo? Ma perché devo fare questo? Ma perché? Cosa ne vale? Ma perché il mio tempo? Devo stare con mia moglie? Devo fare l'amore con mia moglie? Devo recuperare? Devo dare il bacino? Devo andare in chiesa? No, non ti serve niente. Cinque minuti prima al lavoro? Cinque minuti dopo? 30% io devo produrre lì più, il 10%? E devo crescere. Questo mi servirà. Più lo fate, più comprenderete. Perché è importante ascoltare, è importante fare e comprenderete che è importante quello che stai facendo per la testimonianza. Il datore di lavoro ti prenderà come esempio e quando dovrà fare una selezione dirà scusi signor Zubai, giusto? Kubai, Zubai insomma. Dice scusi, ma come mai lei si comporta così? Dice, ma sai, io frequento una chiesa, c'è un pazzo che è venuto dalla Sicilia, che lui grida e mi fa venire i vermi e quindi mi costringe a mettere in pratica, mi costringe e lui ti dirà, senta, mi può far conoscere questo pazzo? Ci sono altri pazzi come questo pazzo dove va lei perché voglio assumere questi pazzi? Per favore, ci sono altre persone come lei dove le frequenta? Che voglio far spazio al vecchio per mettere il nuovo. E allora la capirai, più lo fate, non solo ascolti. E' bel messaggio, wow, meraviglioso. Quello che ascolti, non solo ascolti, mettete anche in pratica ciò che state ascoltando. E più lo fate, che ascolto, devo perdonare, devo perdonare. E devo stare di più davanti a Dio, sto di più davanti a Dio. Devo decimare, devo decimo. E devo stare con i fratelli, sto con i fratelli. Devo andare al culto perché devo ascoltare la parola, ci vado. Dice, ma i miei amici mi vogliono portare al mare, c'è la cena, c'è il pranzo. Dopo la cena, dopo la chiesa, il pranzo, dopo la chiesa, il mare, l'hotel, l'albergo, la crociera, gli amici, la birra, tutto quello che vuoi. Non è peccato bere un boccale di birra. Dice, più lo fate, più comprenderete. E poi dice, perché? Perché a chi ha, versetto 25, ce l'hai? Perché a chi ha sarà dato. Mentre a chi pensa, un'altra versione dice, a chi pensa di avere, sarà tolto anche quel poco che possiede. Cosa sta dicendo qua Gesù? Perché se tu stai portando frutto, stai dicendo, wow. Senza saperlo che cinque minuti prima arrivi la mattina, a te non ti costa niente cinque minuti. Non ti costa neanche niente andare via cinque minuti perché anziché trovare un incidente e stare un'ora dietro le macchine là, e quindi hai perso un'ora, hai onorato con cinque minuti in più, cinque minuti dopo hai risparmiato cinquanta minuti di stare dietro una fila, una coda, o che ti si buca la gomma, ti scoppia la macchina. Tu ti salvi però. No, no, non scoppia niente, non ti preoccupare. Cosa sta dicendo che stai regalando cinque minuti al tuo datore di lavoro, cinque minuti dopo stai producendo il dieci per cento di più? La Bibbia dice qui, perché chi ha stai dando e quindi stai benedicendo, Dio ti prenderà da una posizione, scusami, alzati, da una posizione dove stai lavorando e ti dirà un giorno, signor Kubai, io lo metterò sopra dieci persone perché la sua testimonianza, quello che ha prodotto, mi ha ispirato, mi ha dato fiducia e lei è una testimonianza nell'azienda, quindi io le assegnerò sotto di lei dieci persone che lei dovrà guidare, gli dovrà insegnare quello che lei ha praticato. Questo sapete come si chiama? Evangelo del Regno. Gesù non diede cinque minuti all'inizio del lavoro, non diede cinque minuti alla fine del lavoro, non produsse il dieci per cento di più rispetto agli altri, ma Gesù diede tutto il suo tempo, Gesù diede tutta la sua vita, tutto il suo sangue, diede tutto e noi, la Bibbia dice, siate miei imitatori. Paolo, come io lo sono stato di Cristo. Questo è il messaggio, l'Evangelo del Regno. E quando la parola di Dio arriva nella nostra vita deve produrre un cambiamento, trasformazione. Come si comporta quello al lavoro? Io devo superarlo, devo essere il migliore in azienda, ma non perché voglio discriminare, perché tra una persona che non serve e una persona che serve, ci deve essere la differenza. Io sono luce, io devo funzionare da luce. Gesù ha acceso la mia vita e io su questa terra devo fare la differenza. Io non mi posso conformare. Giovani, non dovete conformarmi, il primo che arriva, la prima ragazzina che arriva, con la minigonna, io guardate le gambe che l'ha sposato, il primo ragazzo muscoloso. Ragazzi, mettetevi in mente chiarezza. Dovete sposare l'uomo che Dio ha scelto per voi. Dovete sposare la donna che Dio ha scelto per voi. E nella Chiesa non si deve fare prostituzione spirituale. Vi spiego cos'è la prostituzione spirituale. La prostituzione spirituale è un credente che si sposa con una persona non credente. Questa si sta prostituendo perché appartiene a Cristo, ma si sta dando a un altro che non ha niente con Cristo. Saliamo di livello? Volete che saliamo di livello? Non deve sposarsi con una persona che viene in Chiesa. Perché una persona che viene in Chiesa non significa che è salvata. Anche il diavolo viene in Chiesa la domenica. Anche il mercoledì. Ma deve sposare a una persona, come dice la parola di Dio, Eliezer, figura dello Spirito Santo, che chiese direzione, Eliezer, Signore, mandami della persona giusta con queste caratteristiche, una donna che abbia il timore della famiglia, dei genitori, che sappia lavorare. E Eliezer, quando arrivò dal fratello di Abramo, guardò e ha detto «Oh, quella donna sa lavorare!» E ha detto «Dammi da bere!» Quella donna gli ha detto «Non solo ti darò da bere, ma darò da bere anche ai tuoi cammelle». Non gli ha portato cinque litri d'acqua. Un cammello non beve cinque bottiglie d'acqua. Non beve una cassettina d'acqua un cammello. Questa donna faticò per prendere acqua e dare a bere. Andava a prendere, a tingere e dava da bere. Eliezer ha detto «Wow!» Questa è una serva. Questa è una serva di Dio. Questa è una donna che fa sul serio. Dobbiamo alzare l'asticella, ragazzi. L'Evangelo del Regno, perché molti sapete cosa fa. Vai in Chiesa, mi sposo, la Chiesa non salva. È l'Evangelo che è penetrato nel cuore. Buon terreno. Percorse, infamia, solitudine, deserto, ma resta sempre piantato nel Signore. Su quella persona puoi fare affidamento. Ma la persona che viene in Chiesa, che oggi lo vedi, non conosci sia il terreno come quel seme caduto lungo la strada. Non sai se il suo cuore è roccioso. Se non sai se quel tipo di cuore è come il terreno con le spine. Sai chi lo conosce? Lo sai chi lo conosce? Tu lo conosci? Siccome facevi così, dici, io lo conosco. Lo sai chi lo conosce? Lo conosce Dio? E sai chi lo conosce poi? Dice, sì, il pastore. Perché il pastore dice, oh, scalcita, oppure dice, va bene. Stai seduta, non parlare, zitta, prega, obbediente, o scalcia, dice no, è una pecora, è una capra. Oppure ha acquistato una pelliccia e si è travestita, è un leone travestito da pecora. Le prove, le difficoltà ti portano a far vedere il cuore. Se è il cuore paragonato al terreno lungo la strada, terreno roccioso, tra le spine, o è buona terra. Dio sta cercando buona terra. E io credo che in questo luogo c'è buona terra. Perché siamo nella terra buona. Amen? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare questa sera. Alleluia. Mamma mia, vi ha accomodato o scomodato questa sera la parola? Ti è piaciuta? No. Alleluia. Ok, chiamiamo a mia moglie per la seconda parte del messaggio. Pregato. Alleluia. Signore è meraviglioso. Chiudiamo tutti gli occhi. Signore, la Tua parola è veramente meravigliosa, preziosa. E noi, Signore, vogliamo fare tesoro di quello che abbiamo ascoltato. desideriamo che questa parola possa portare frutto prima nella nostra vita e poi, Signore, vogliamo portare frutto a sua volta. perché, Signore, stasera Tu ci hai parlato e Tu ci hai dato delle parole specifiche. Io credo che ognuno di noi abbiamo ricevuto questa sera. ognuno la propria parte. E, Signore, ti voglio ringraziare, Signore, per il lavoro che Tu fai nella nostra vita, per come Tu, Signore, ci trasformi. Questa sera ci hai parlato, Signore, ma ci hai anche trasformati. E noi crediamo, Signore, in quello che abbiamo ascoltato. Crediamo nella Tua parola. Crediamo, Signore, che siamo uno strumento nelle Tue mani. Noi crediamo, Signore, di essere quei santi appartati, Signore, il Tuo popolo. Quei santi appartati per Te, Signore. E siamo pronti, Padre, a fare la Tua volontà. Siamo pronti a stare alla Tua presenza, Signore. Siamo pronti ad ascoltare il Tuo consiglio. Siamo pronti ad ascoltare direttive da Te, Padre. Perché Tu hai un compito per ognuno di noi. E noi crediamo, Signore, di essere quelle pietre viventi che messe al posto giusto funzionino per l'edificazione del Tuo Tempio, Padre. Perciò, Signore, noi vogliamo e desideriamo, Signore, che Tu, Signore, continui, Signore, a lavorare nella nostra vita perché vogliamo che Tu abiti in noi. Che Tu, Signore, ti faccia, Signore, un Tempio. Un Tempio meraviglioso, Padre. Signore, grazie. Grazie per tutto quello, Signore, che Tu ci stai dicendo in questo tempo. Grazie, Signore, perché, Signore, Tu ci stai parlando, ma ci stai equipaggiando. E noi vogliamo, Signore, questo equipaggiamento, lo vogliamo prendere, Padre. Lo desideriamo, lo vogliamo nostro, Signore. E desideriamo, Signore, poter fare il Tuo cuore felice. Signore, grazie che Tu ti curi di noi, ti prendi cura di noi. Grazie perché ci mostri, nonostante tutto, anche questa sera, Signore, Tu ci hai mostrato il Tuo amore. Signore, perché Tu parli a coloro, Signore, che ti amano, a coloro che Tu ami, Signore. E noi desideriamo che Tu continui, Signore, a lavorare nella nostra vita. Desideriamo essere un vaso dove Tu puoi riempire, Signore, con la Tua presenza, con la Tua unzione, la Tua sapienza, Signore. Perché noi possiamo muoverci e adempiere quel proposito, Signore, che Tu hai qui in questa città. Signore, Tu al Gospel Center hai dato, Signore, un proposito, Signore, per questa città. Signore, Tu ci vuoi, Signore, usare, Signore, per questa città. E noi crediamo, crediamo, Signore, crediamo che questa città si arrenderà a Te, perché noi cercheremo la Tua faccia per questa città. Noi ci metteremo sulle alture per questa città. Noi intercederemo per questa città, Signore. Faremo da sentinelle per questa città, Padre. Nel nome di Gesù, Signore, ti vogliamo ringraziare e vogliamo darti tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza. Nel nome di Gesù, Amen e Amen. Un attimo, non andate qui, un attimo. Dobbiamo pregare per Maurizio.